Backstage! Ma basta così però, vero? Il concetto è questa. Cos'è che devo dire? Io credo in S4. Quattro punti di vista. Quattro dritte che si intergono. Mi viene troppo da ridere. Questa non l'hai registrata? L'avevo detta tutta. Quattro punti di vista. Quattro dritte? No, devo vederla perché sennò non mi ricordo. Dopodiché mi metto a piangere perché ci sta. Questa era troppo seriosa. No, perché già sono in crisi. Allora, sì, ecco, ci voleva, capito? L'urlo così. Riprovo, eh. L'amore di una madre. Non ci siamo, c'è troppo spacco. Dare forma ad una struttura durevole, ad una ristruttura... Legata a una cimentazione. Va così. No, eh, Claudio non mi ha bisogno dei spettatori. Aiuto. Vai di là per piacere. Vanno bene le mani qua così? Per dare forma a che cosa? Per dare forma ad una struttura. Cosa descrivo struttura? Sai che veramente lo facciamo? Tu hai visto l'intervista che ho fatto su Sky? No, no, no. Questa lì è durata 20 minuti? Non so. No, 20 minuti no. 3 minuti è durata, vero? Allora, bene. Via. Madonna. Per me. Per me. Per me. Grande, grande. Era quello che volevo. Sì. Ho respirato. Comunque fare il contratto coppa è stato più facile. Guarda, io credo in SO4. Il nostro segreto è... Non me la ricordo, è una frase. Io credo in SO4. Io credo in SO4. Ma poi non mi prendi questa pagina? Dai, vabbè. Che spacaballo. Ok. E c'è il logo di... Devo fare così? Eh. L'altro? No, dai, dai. No. Così. Sulla tetta, tipo... Sì, sì. Io credo in SO4. Tu mi vuoi dritta, vero? Non mi ricordo più la frase. Cos'era quello sbuffo, tesoro? Sbuffo. Tesoro, devi fare un sorriso a 32 denti quando io ti dico divertente. Cioè, 32 neanche perché te ne mancano 4. No, no. È normale però con un sorriso. Come quando, lo so, esci da Gardaland. Beh, no, non così. Sì. Basta. Vai, parti. Parti. Grande, Nico. Posso fermarlo? Vai, vai. È finita la strada. Wow.